Ciao amici di Poker Italia Web, bentornati al TANLE TIGRI, siamo a Bratislava, come vedete 56 giocatori rimasti, siamo nel quindicesimo livello, ante 200, blinds 1200, come vedete primo premio 22.091 euro, ecco la sala che ci ospita, siamo sempre al banco casino, facciamo un giro proprio nella sala per vedere i tavoli, ancora con i giocatori in gioco, ci sono parecchi italiani ma anche molti giocatori slovacchi di casa che si sono iscritti a questa tappa slovacca del TANLE TIGRI, che ha superato i 200 entries, quindi ottimo risultato e superato il monte premi che era garantito di 80.000 euro. Primo premio come abbiamo detto superiore alle 22.000 euro, quindi una bella cifra per questa tappa che si sta giocando in terra slovacca e che potete seguire in diretta su Poker Italia Web. Ciao a tutti!